Così senza saperlo, sperando di non entrarci. Allora, l'economia deve essere un'economia di guerra, avere il coraggio di dirlo. Certe cose non si possono più produrre e bisogna decidere adesso se andare in una direzione, andare verso il carbone, verso il gas, verso il nucleare, oppure renderci autonomi con questi. Con l'idrico si compensa il fatto che queste strutture, queste tecnologie sono intermittenti. Con l'idrico, con l'acqua si può convergere ad accumulare energia quando c'è bisogno, sia quando piove o quando non c'è il vento. Si deve fare, abbiamo le più grandi centrali del mondo, l'Enel è la più grande società elettrica, una delle più grandi del mondo. Abbiamo Terna, abbiamo l'elettrificazione, noi siamo quantici.